Ubaldo Carloni, nutrizionista ed ex ricercatore in farmacologia, sarà il protagonista della prossima puntata di Essere benessere l'etica del vivere, nel corso della quale si parlerà del mondo misterioso della ghiandola pineale, ricordando il suo ruolo davvero fondamentale nella regolazione generale di tutte le funzioni vitali. La trasmissione andrà in onda lunedì 24 maggio 2021 alle ore 21 su Telecolor, canale 18 del Digitale Terrestre, oppure sarà visibile in diretta streaming collegandosi a www.telecolor.net o in diretta Facebook su Telecolor Green Team. Sarà una puntata molto interessante che stimolerà più che mai curiosità e crescita interiore.